Buongiorno a tutti, bentornati alla diretta di oggi insieme ai nostri tarocchi. Aspetto un attimino a vedere se qualcuno arriva in modo tale da non cominciare che le persone interessate non ci sono ancora. Adesso attendiamo qualche minuto, nel frattempo comincio a mischiare le mie carte. A qualcuno fortunatamente sta arrivando. Ok, aspettiamo ancora un attimino e intanto io mischio. Vi ringrazio tanto per i messaggi su Messenger e i vari Ciao Francesca, ben arrivata, grazie di tutto per oggi. Buongiorno a tutti, vi ringrazio tanto per tutta la vostra dimostrazione d'affetto, veramente mi fa molto piacere, grazie mille. Quindi possiamo cominciare. Allora, premetto una cosa, vi avviso io quando cominciare a farle domande, a mandarmi messaggi per domande. Oggi, insieme a Francesca, abbiamo deciso di prendere meno prenotazioni in modo tale che lasciamo più spazio ai messaggi. Così da accontentare un po' tutti. Oggi non sono da sola, ma vaga, per il mio studio vaga la mia gatta. Non so dov'è, oggi ho deciso di farmi compagnia. Ok, comincio con Fly Away, che mi chiede se ci sarà la fine della convivenza fra Isabella, penso che sia lei, chiede 72 e un altro uomo. Io non guardo se ci sarà la fine, guardo come evolve questa convivenza. Tanto se esce una chiusura me la segna. Aspettate a mandarmi i messaggi con le domande. Vi avviso io quando cominciare a scrivermi. Perché Roberta, perdonami, ma questa non la riesco più a ritrovare. Vi avviso io, perché oggi comunque c'è più spazio per le domande. Quindi state tranquilli che vi avviso. Allora, cosa succederà? Come evolverà la convivenza fra Isabella, che è del 72, del 16-6-72 e Angelo. Io penso che Fly Away sia Isabella, non penso che siano altre persone. Guardo come evolverà questa convivenza fra Isabella del 72 e questo uomo. Vediamo un po'. Allora, sono... Ok, lui è più grande, ma al momento mi esce una relazione un pochino instabile, un pochino così agitata. Sicuramente ci sono cose da mettere a posto. Deciderete insieme cosa fare di questa convivenza. Mi escono tante discussioni, momenti di sacrifici, momenti di preoccupazioni. Come se i bei sogni in questo momento, i bei progetti che forse c'erano all'inizio, adesso cominciano un po' a essere messi in secondo piano. C'è sicuramente un cambiamento voluto con la forza e del cambiamento, un'evoluzione. Però, qualunque sia questa evoluzione o questo cambiamento, lo deciderete insieme. Perché comunque di base i sentimenti mi escono che ci sono ancora. Però è come se al momento fossero messe da parte per delle preoccupazioni, per dei pensieri, forse anche per non capirsi, per cose dette e non chiare. Per incomprensione, ecco, non mi veniva la parola. Comunque valuterete insieme cosa fare di questa convivenza. Allora, poi. Our Ora, che si chiama, penso Elena, se riceverà parole d'amore, dove sono? Dall'uomo che ama. Vediamo, Elena, che è del 12, 9 e del 77. Vediamo se lei riceverà parole d'amore dall'uomo che ama. Vediamo un po'. Se Elena riceverà parole d'amore dall'uomo che ama. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Allora. Ma c'è tanta la tua, come sofferenza, lì che aspetti. Una sofferenza, io non so se tu sei più grande di lui o più giovane. Se mi scrivevi almeno la data di nascita di lui o l'età, avrei potuto regolarmi un attimino. Sicuramente ci sono tante cose non dette specialmente da lui, però mi escono come menzogne. Come esempio. Sì, ti amo, ma non vengono proprio dal cuore. È come se lo dicesse per farti contenta. Guarda, al momento non mi escono. È come se lui in un qualche modo volesse dirtele quando effettivamente se le sente che vengono dal cuore. Al momento ti dico la verità, su di lui mi escono preoccupazioni, specialmente a livello finanziario e un attimino a volte che pecca di orgoglio. Un attimino ci mette a quello e forse è anche questo orgoglio che non gli permette di buttare fuori i suoi sentimenti. Ti dico, al momento non me li segni i sentimenti, ma se non me li segna non vuol dire che non ci siano. Vuol dire che al momento non se la sente di esprimersi a parole per quello che sente. Mettiamola così. Allora, Moretto Marina, che è del 17568, se si sposerà. Allora, io guardo. Se la situazione è tanto in là, non me lo segna. Se a breve me lo segna. Io guardo cosa esce. Moretto Marina, che è del 17568, se si sposerà. Vediamo se ci sarà un matrimonio per Moretto Marina. Allora, è un desiderio che veramente lo senti molto forte. Allora, a me segna un personaggio, un Papa. Comunque, e quindi non so se è una persona che già vive, già sta con te, se è una persona nuova in arrivo. Questo, se non me lo dite, se si sposerà, se mi dicevi, guarda, già sto con una persona, voglio sapere se ci sposeremo. Oppure mi dicevi, guarda, sono da sola, c'è nel mio futuro un matrimonio. Io avrei potuto capire meglio la situazione e darti una risposta più chiara. Adesso provo. Ora mi dà come ancora tutto da decidere, come se fosse un desiderio che c'è in te, ma non ancora concreto. Però poi mi esce comunque la carta dell'imperatore e della giustizia. Può essere un prete che comunque celebra un matrimonio, ma come se capitasse così all'improvviso. Però ti dico, ora come ora, non me lo segna, ti ho detto, perché non è ben chiara la domanda. Nel futuro un matrimonio ci può essere. Se ti prenoti per la volta prossima e mandi un messaggio alla ragazza, la volta prossima sarà lunedì 20 e sarò sempre dalle 2 però fino alle 3 e mezza, non fino alle 4. Quindi lunedì, non domenica, perché domenica c'è questo meraviglioso convegno e quindi giustamente mi hanno spostata il giorno dopo. Però se Marina mi scrivi bene la domanda, se c'è una persona, non c'è, io posso essere più chiara e anche le carte mi sono più chiare. Ora come ora non me lo segna o comunque me lo segna molto più avanti, però ho bisogno di capire questa cosa. Ok, aspettate che ho sbagliato. Allora, Loretta Bridarolli, il lavoro per Loretta Bridarolli che è nata l'110 del 60, il lavoro. Vediamo un po', il lavoro per Loretta, il lavoro. Il lavoro. Allora, mi esce, sei del 60, mi esce come se sul lavoro ci fosse. Allora, due cose, se non stai lavorando arriverà un lavoro e ti verrà proposto o sentito da un giovane, da un uomo. Allora, voglio puntualizzare che le carte non hanno solo un significato. Lei mi ha chiesto sul lavoro. Io, per esempio, queste prime tre carte le potrei interpretare in diversi modi. Vale a dire che col tempo non ancora ben definito si presenterà un uomo che gli proporrà qualcosa. Se invece questo lavoro c'è già, mi segna questo personaggio non tanto simpatico e quindi è meglio un attimino stare attenti. Però, non sapendo se lavora o non lavora, comunque, se non lavori ti verrà proposto un lavoro da parte di un uomo o il tuo capo sarà un uomo o qualcosa del genere. Però sarà un lavoro che mi dà idea che, a parte che ti piacerà tantissimo, ma è come se tu dovessi farlo da sola. Da sola non vuol dire in modo autonomo, vuol dire che magari sei in ufficio da sola o comunque tu hai la mansione di fare quella determinata cosa e sarà però qualcosa che ti piacerà, ma sarà anche qualcosa con soldini. Perché mi esce il diavolo. C'è proprio un cambiamento, così, puff, all'improvviso, di soldini, ma positivo, quindi soldini che entrano. E però mi segna anche una donna, non so se può essere una tua amica, una tua sorella, un'ipotetica collega, che è un po' strana. A volte ti sembra tanto amica, a volte fa un po'... va a momenti, secondo me da come si alza la mattina si presenta sul lavoro. Però ti dico, le carte sono molto belle, sono comunque positive, diciamo che comunque se ci sono dei problemi ora, ora, le cose vanno comunque a sistemarsi. Quindi, ok, vediamo, poi, Maria Scaramella, chiede il 31 gennaio 61, se le arriveranno i soldi che aspetta. Vediamo un po', questi soldi che ce n'è sempre bisogno, se le arriveranno i soldi che le aspetta. Vediamo un po', se le arriveranno i soldi che le aspetta. Vediamo un po'. E con alti e bassi, però, arrivano. Vediamo un po'. Allora, mi piacerebbe sapere se questi soldi devono arrivare da un uomo. Allora, mi escono due personaggi maschili, come se questi due personaggi ti dicessero guarda, sì, sto mese te li do, guarda, fine settimana te li do. E poi c'è sempre sacrificio, poi tirano per le lunghe, ti danno 10 euro invece di dartene, esempio, 100, un po' così. Però c'è un buon cambiamento. Tu a un certo punto prenderai una decisione, non so se andrai là di persone e dirai, no, ora li voglio. E al che o se metterai in mezzo altre persone, perché mi esce la forza, comunque, o tu che ci vai in modo molto deciso e diciamo, in modo determinato, tu dici, no, ora li voglio, o se ci metti in mezzo qualcun altro. I soldi, secondo me, arriveranno. Non mi dà idea che te li diano tutti sull'unghia. E' come se magari prima ti danno 500 euro, poi te ne danno altri 100, un po' dilazionati nel tempo. Però le cose si smuovono. E vicino a te c'è anche una ragazza più giovane, come se fosse una persona che in un qualche modo ti smuove le cose. Non so se potrebbe essere un'avvocatessa o un personaggio che dice, no, basta, ora diamogli, cerchiamo in modo di trovarli. O una moglie, appunto, che smuove un po' le cose. Però i soldi te li danno. Secondo me, poco per volta. Però arrivano. Allora, poi, Simona sì, che è del 12, 12 del 74 e mi chiede l'amore con questo uomo. Allora, lei è più giovane rispetto a lui. Ok, sono dello stesso anno ma lui è più grande. Vediamo un po'. Simona sì, l'amore con questo uomo. Vediamo un po' come evolve l'amore tra queste due persone. Simona e questo uomo. Come evolve la situazione. Allora, c'è un cambiamento. Allora, al momento mi escono un pochino di alti e bassi, un pochino di solitudine, un pochino come se non ti sentissi capita, come se tu avessi ancora tanti sogni e lui ogni tanto te li butta per aria. Però c'è un cambiamento, un cambiamento positivo, come se, e mi dà idea che questo cambiamento viene da lui, come se si tranquillizzasse, come se capisse un pochino la situazione e si vadano a cambiare le cose. Ma ti dico, in modo molto positivo, molto, molto, molto. Io non lo so se voi due siete sposati, se... Comunque ci sono, se siete sposati, ci sono... Non so, se la vostra figlia si è presa una cotta per qualcuno e quindi ha perso un pochino la testa. Non sono né uomini né donne per voi. Sono persone esterne. O se c'è una vostra amica, una sorella, una cugina, che si è invaghita di un altro e un attimino sta... Sta un pochino sbarellando, mettiamola così. Però, diciamo, il cambiamento nella coppia c'è. Dovete forse parlare un pochino di più, però il cambiamento viene... Mi dà idea dal tuo compagno. O comunque, cambiamento positivo. Filippa, perdonami, vi avviso io quando fare le domande, perché ora sto facendo quelle prenotate. Ne abbiamo prese... Anzi, ringrazio tanto Francesca che ha preso le prenotazioni. Ne abbiamo prese un pochino di meno per riuscire a fare i messaggi. Quindi, vi avviso io quando è ora di scrivermi. Non abbuffate, non riempite ora i messaggi, perché questi li perdo. E quindi non riesco a ritornare su e quindi li perdo tutti. Allora, Miriam Bassi, che prima ho visto che si è collegata, anche se non l'ho salutata, però l'ho vista. E mi chiede il rapporto di coppia con questo uomo. Lei è più giovane e lui più grande. Lei è del 71 e quest'altro è un attimino più grande. Vediamo come evolverà il rapporto fra Miriam e questo uomo. Vediamo un po'. Come evolverà il rapporto fra Miriam e questo uomo. Vediamo Miriam e questo uomo. Come evolve il loro rapporto. Vediamo un pochino. Guarda, al momento c'è un po' di fermo, un po' di cose non dette, un po' non dico segreti, però come se tu avessi la sensazione che lui ti nascondesse qualcosa. Però poi le cose prendono la loro strada e prendono anche una strada positiva. Comunque i sentimenti ci sono fra di voi. Le cose cambiano e cambiano al meglio. Non so se ad un certo punto mi segna una donna. E su questa donna si dovrà prendere una decisione. Una donna più grande rispetto a te. Potrebbe essere la mamma di uno dei due. Perché a me esce il legame, non è un legame di morosa, mettiamola così, o diamante. È un legame di famiglia. Come se su di lei, o che questa nonna deve prendere una decisione e magari voi gli state vicino. Secondo me o è una mamma, o una zia, o un'amica più grande, una zia, una sorella, qualcosa del genere. Che dovrà prendere una decisione e le starete vicina e magari l'aiutate. Magari vi chiederà o ti chiederà un'opinione e tu gliela darai. Però ti dico, il vostro legame è molto forte. Io le incomprensioni cercherei di chiarirle. E comunque è un legame d'amore. E quindi, se è un legame d'amore, bisogna sempre andarsi incontro e cercare di chiarire al meglio le situazioni. Allora, Silvia Zabotti. Il ritorno di questo personaggio. E lei mi chiedeva anche se ci saranno delle comunicazioni. Allora, posso fare... Perché siccome sarebbero due domande, però ti dico, le comunicazioni io le guardo con le sibile. Perché con i tarocchi non ci capisco tanto. E i ritorni invece le guardo con i tarocchi. Però, adesso provo a buttare giù le sibile. Così guardo anche le comunicazioni. E vedo cosa mi esce. Se già mi segna il ritorno, va bene. Se no, apro le altre in modo veloce e cerco di capire se ci sarà anche il ritorno. Allora, Silvia Zabotti. Lui è più giovane. Ok, lei del 74. Se la situazione fra Silvia e Fabrizio come evolverà a breve. Come evolverà fra Silvia e questo ragazzo. Come evolverà. Ecco, già le carte che scappano. Vediamo un po' cosa mi dicono. Guarda. C'è un cambiamento. E un cambiamento lui adesso un po' così. Un po' come se fosse nemico. Però vediamo un po'. Andiamo avanti. Allora, fra Silvia e questo ragazzo, cosa succederà a breve? Cosa succederà a breve? È mia suoce e le incomprensioni sono per causa sua. Ok, mi sollevate quando mi date la conferma a quello che dico. Perché non avendo il dialogo, quindi a volte devo un attimino azzardarmi a dire le cose, però non ho la conferma. Grazie Miriam di avermela data. Allora, vediamo un po' tra Silvia e questo ragazzo. Cosa succederà? Allora, al momento mi segna il fermo. Proprio non ne ha voglia, fa il bambino cociuto e non mi segna. Guarda, secondo me ci sarà, non so se lo sentirai o cosa, però se tu a un certo punto ti deciderai a scriverlo, però preparati che non ti risponderà bene, anzi farà abbastanza l'antipatico, per non dire un'altra parola. Farà un pochino l'antipatico. Poi ci sarà una comunicazione, secondo me più carina, perché ad un certo punto sentirà un pochino di bisogno di sentirti. Però ti dico, Silvia, è un po' complicata la situazione, nel senso che ora ha affermato tutto. Mi esce proprio la persona maleducata, scontrosa, che non ha voglia proprio di comunicare. E io non azzarderei per evitare che appunto ti arrivino magari anche delle parole che non ti meriti. Aspetterei un attimino che sia lui a prendere in mano la situazione, perché secondo me in casa ha qualcuno che non sta bene. Anche solo magari lui non sta bene, magari c'ha la mamma che non sta bene, ha qualcuno. Però io ora starei ferma. Adesso guardo velocemente con i tarocchi cosa... A qui non mi segna un ritorno, anzi, mi segna un po' la situazione ferma. Faccio velocemente. Loretta ti ho già fatto. Se guardi la... Oddio, oggi non mi vengono le parole. Se guardi poi la replica, mettila così non mi viene l'altra parola, ti ho fatto fra le prime. Quindi la senti subito. Allora, vediamo un attimino come evolve fra Silvia e questo ragazzo. Velocemente, perché sarebbero due domande. Però c'è un'evoluzione, un'evoluzione positiva. Io mi guarderei anche un pochino attorno se fossi te. Perché per te c'è anche un'altra persona più grande rispetto a lui. E forse anche un pochino migliore. No, al momento mi esce lui come carta di matto. Potrebbe riavvicinarsi, ma non nell'immediato. Io ora proprio cercherei di... Cercherei proprio di lasciarlo nel suo brodo. Onde evitare di prendere parole anche offensive. Poi se le cose si smuovono, sarà lui a fare il primo passo. Io però mi guarderei anche attorno perché ribadisco. C'è un uomo più grande rispetto a lui che ha dei sentimenti o comunque ha un'attrazione nei tuoi confronti. Allora, poi... C'è Eddie Simonetti. Se trova l'amore della sua vita. Ah, cipicchiolina. Allora, io guardo Eddie. Se ti arriverà l'amore. Che poi è l'amore della tua vita. Sei del 76. Se poi è l'amore della tua vita. O non lo è. Staremo a vedere. Io comunque vedo cosa c'è per te in amore. Io ho la mia gatta che mi tiene sotto controllo. E secondo me se dico qualcosa di sbagliato mi arriva anche una zampata. Quindi vediamo. Eddie Simonetti. Se trova l'amore. Vediamo. Vediamo cosa ti succederà in amore. Non se lo trovi. Cosa ti succederà? Così guardiamo più cose. Lavoriamo più nel largo. Allora, Eddie Simonetti. Che è del 2976. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Cosa le succederà in amore. Vediamo cosa le succederà. Belle cose. Guarda. Già il taglio mi dice. L'amore e la tua rinascita. Quindi una meraviglia. Sei del 76. Allora, tu ora non lo sai. Ma l'universo si sta muovendo per te. E si sta muovendo nel migliore dei modi. Perché guarda un po' cosa c'è. Un omino leggermente più grande di te. E sarà un omino con cui pian pianino costruire qualcosa. Perché vicino a lui mi esce. Guarda, ne metto giù anche altre due così. Oh, che meraviglia. Bellissimo. Con cui poter costruire qualcosa. Ci sarà un momento in cui non saprai un po' cosa fare. Perché questa persona mi dà idea che da una parte rispecchia i tuoi canoni di uomo. Dall'altra parte è un personaggio un po' solitario. Allora, l'eremita, spiego. È come se potrebbero essere tempi un pochino lunghi. E questo, vabbè, ci sta. Come può essere, visto che è vicino al legame. È vicino alla carta di matto. Aspetta, prima c'era questa, poi c'era questa, poi c'era questa. È come se, sì, guarda, una persona arriva, sarà una persona magari un po' pensierosa, un po' comunque uno studioso e un po' sui generi. È un tipo un po' particolare, forse diverso rispetto a quello che sei tu. E questa cosa ti spiazzerà un pochino. Perché forse tu sei una persona più razionale, più posata e lui invece è un pochino più eccentrico. Poi ci sarà anche un altro personaggio che salterà fuori e che mi va a confermare un po' una delle prime carte. Questa persona sarà invece più giovane rispetto al prima. E sarai tu a decidere quale scelta fare. Se scegliere il primo un po' particolare oppure il secondo forse più vicino al tuo modo di essere. Però non resti da sola. Che siano uno dei due, l'uomo della tua vita, che sia l'uomo di un certo periodo, perché anche le storie che durano un tot di tempo e poi se ne vanno, hanno la loro motivazione di arrivare. O comunque anche loro portano degli insegnamenti e portano comunque esperienza. Io non posso guardare se durerà tutta la vita perché non so neanche di me stessa. Però diciamo che quello che sceglierai sarà una buona relazione. Ok, oddio. Devo dire un nome che fortuna vuole. L'ho vista già collegata. Spero che capisca. Dico solo il nome perché il cognome già non mi ci avventuro. Allora, Nadinka. Penso che abbia capito che è del 9662. Quindi sa che parlo di lei. Non dico il cognome perché potrei fare brutta figura. E mi chiede l'amore con questo uomo che è del 69. Quindi lei è più grande perché lei è del 62 e lui è del 69. Ok, vediamo come evolve l'amore fra Nadinka e questa persona. Come evolve l'amore fra Nadinka e questa persona. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ok. Ora mi esce come se doveste pre... Lui è più grande. No, lui è più giovane. Perfetto. Come se ci fosse qualcosa da chiarirvi. Ok, ci sei. Perfetto. Allora, sai che sto parlando con te, Nadinka. Allora, come se ci fossero delle cose da chiarire. Perché mi esce la carta di sacrificio e la carta della ruota. Oggi va bene, domani discutete, poi arrivano buone le poste, però ce ne sono delle cose che forse dovete chiarire. Premetto. L'amore c'è. Quindi, i sentimenti ci sono, c'è un buon cambiamento. E non so se poi ci sono delle discussioni, non so se a causa di una mamma, di una zia, di una sorella, proprio mi esce un'altra persona per cui voi discutete. O che ogni tanto si impiccia nei fatti vostri e vi porta comunque a delle discussioni. Però ti dico, non vedo cose strane. Può essere che per te salti fuori anche un'altra persona, più grande rispetto a questa persona di cui mi hai chiesto. Però lì è una persona che non dovrebbe abitare dalle tue parti. Però lì, quando si presenterà, valuterai tu cosa fare e come muoverti. Magari è solo un amico che vi verrà a trovare, come può essere un corteggiatore per te. Quello io non l'ho detto, tu non lo sai. Te l'ho detto ma non te l'ho detto e lo sappiamo solo noi. E l'altro milione e mezzo di persone che mi stanno sentendo. Però, ti ho detto, potrebbe anche essere un fratello che ti viene a trovare. E quindi. Però ti dico, chiaritevi dove non ci sono le cose chiare. In modo tale anche da andare a sistemare un po' la situazione. Perché comunque i sentimenti fra di voi ci sono. E quindi perché rovinare la storia. Allora, poi c'è. Nereide Cadedu, che penso sia sarda, penso, se cambierà lavoro. Ed è del 77. 24, 11, 77. Nereide Cadedu se cambierà lavoro. Vediamo, figurati Nadinca, grazie a te per essere qua con noi. Simona, sì, ti ho già detto. Se riguardi la diretta indifferita, tanto guarda, sei la sesta. Quindi, nel giro di me, neanche, è passata mezz'ora. Quindi, in un quarto d'ora ti senti. Allora, Nereide Cadedu, se cambierà lavoro. Vediamo un po' come evolve il suo lavoro. Facciamo così. Come evolve il suo lavoro. Così se c'è un cambiamento lo vediamo. E se non c'è, non me lo segna. Come evolverà il lavoro di Nereide? Allora, al momento c'è un fermo. Cioè, sicuramente tu hai tanta voglia ad andare. E' come se, a volte dici, sì, cambio, sono stufa di sta lì, basta, mi sono rotta le scatole, ci sono degli antipatici. Poi dici, ma sì, lo stipendio lo prendo. E cerchi comunque da andare avanti. Però, cosa buona, il cambiamento me lo segna. E comunque ci può essere un cambiamento di lavoro, può essere o in un paese diverso da dove lavori ora, o in un paese diverso da dove abiti. Però mi dà come la sensazione che ti dispiacerebbe andare via da dove sei ora, forse perché hai una collega con cui vai d'accordo. Perché mi segna, ti faccio vedere, mi segna che sia un pochino più giovane rispetto a te. Vedi, è come se comunque ci fosse questa persona con cui vai d'accordo e un pochino ti dispiace lasciarla. È un po' così. O che è una tua collega che ti dice, ma no, vai, vai, che cambi lavoro e stai meglio. È una persona che comunque ti vuol bene e ti supporta. A me il cambiamento lo segna. Ma segna proprio poi, e anche secondo me con qualche soldino in più. E secondo me sarà un uomo, fai intorno alla tua età, giorno più, giorno meno, che o è il tuo nuovo datore di lavoro, o che ti farà il colloquio. O che ti dirà, guarda, là, in quel posto là cercano, vai a sentire. E cosa buona, sicuramente su un soldo in più rispetto a quello che prendi ora. Ed è comunque un nuovo inizio, perché il bagatto è l'inizio di qualcosa di nuovo. E quindi, dimmi un po', siamo un bel gruppo di lavoro, ma sento il bisogno di cambiare. Sì, perché su di te comunque mi esce il sacrificio che lo fai. O che è arrivata a trovarmi. Guardate un po'. E quindi, però sì, il cambiamento me lo segna. Un pochino più avanti, non nell'immediato. Allora, vediamo un po'. Laura Melluso. Radia, spostati. Vuole fare la pendolare fra la Lombardia e la Calabria. Ok, allora, io guardo, siccome detta così, non saprei come guardarla. Guardo se ci sarà comunque dei cambiamenti. Vediamo un po'. Provo a fare la domanda così. E se è del 9-12-58. Vuole fare la pendolare Laura Melluso fra Lombardia e Calabria. Vediamo un po'. Fra Lombardia e Calabria. Vuole fare la pendolare. Io avevo una mia collega che lei abitava in Calabria. E lei faceva invece la pendolare dalla Toscana alla Calabria. E anche lei, poverina, ne ha fatte. Allora, Laura Melluso. 9-12-58. Vuole fare la pendolare fra la Lombardia e la Calabria. Se ce la farà. Vediamo un po'. Allora, c'è tanta dispersione di soldi. E quindi... Allora... Allora, mi aspettavo che uscisse la carta del carro. Per capire. Ma è come se... Non so se lavori da una o dall'altra parte. È come se... Il ipotizzo. Come se tu volessi andare in Lombardia o in Calabria perché c'è un omino. O comunque c'è una relazione con un uomo intorno alla tua età. Mettila così. Forse un pochino più grande. E tu un pochino non sai cosa fare. Perché da una parte vorresti continuare la relazione. Dall'altra parte... E invece pensi magari ai soldi. Però ti dico. C'è vicino a te un ragazzo che ti può... Più giovane rispetto a te. Non so se è tuo figlio o se è un tuo nipote. Un tuo fratello più giovane. Che comunque ti può dare... È un po' particolare. Che comunque ti può dare dei consigli. Al momento mi esce lo stare fermo. Però col fatto che al taglio mi usciva comunque i soldi. È come se mi dicessero. Guarda ora metti da parte i soldini. Perché nel momento opportuno. Il cambiamento c'è. Ma ti dico. Mi esce in fondo. Perché guarda mi esce qua. Nelle ultime tre il cambiamento. Mi esce. Però è come se mi dicessero. Ora no. Ma comincia a mettere da parte i soldi. Per quando saranno necessari. Puoi andare se ne so. Adesso sei in Calabria. E vuoi andare in Lombardia. Magari vacci una volta al mese. Una volta ogni 15 giorni. Cose di cominciare pian pianino. Perché ora come ora. Andar su e giù. Diciamo tutti i fini di settimana. Ci sarebbe una dispersione dei soldi. Che arriveresti proprio ad avere dei problemi. Mi scusate un secondo. Che vado ad aprire la gatta così. Va. Dai Radia. Vai. Dai amore. Vai. Ok. Ha deciso che forse era meglio andare. Sei stufata di star qua con me. Allora. Vado avanti. Veronica Orru. Che la conosco molto bene. E le mando un grande bacio. E la ringrazio ancora per gli auguri di Pasqua. Se ci sono dei cambiamenti lavorativi. Vediamo un po'. Se Veronica avrà dei cambiamenti lavorativi. Vediamo un po'. Veronica sul lavoro. Se ci saranno dei cambiamenti. Se ci saranno dei cambiamenti. Allora. 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 Ma guarda. Secondo me arriverà il momento in cui dovrai prendere una decisione. non nell'immediato. Perché secondo me potrai cambiare. Ci sono comunque dei buoni soldini in più. E' come se questo nuovo lavoro ti desse quella marcia in più. E ti facesse stare meglio. Ora non è momento. Salterà fuori da solo. Al momento mi dà idea che sei ancora ferma dove sei. Però ci sono dei buoni cambiamenti. Cerca tu magari di chiarirti bene le idee. Cosa ti piacerebbe fare di diverso da dove sei ora. Quello sì. Devi capirlo e chiarirti un pochino le idee. Il cambiamento c'è. Non nell'immediato. Però prima schiarisciti le idee. Allora. Ho visto che Mariangela prima chiedeva. Mariangela o per o pierre. Sono arrivata a te. Che è del 10.364. E mi chiede se troverà un nuovo amore. Vediamo. Allora. Vediamo se Mariangela o pierre troverà un nuovo amore. Che è del 10 marzo del 64. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Mariangela pierre. Se troverà un nuovo amore. Vediamo un po'. Qualcosa di buono che arriva. Ora c'è proprio il momento di fermo. Il momento in cui devi un attimino pensare a te stessa. Un attimino riequilibrati e pensare a te stessa. Non so quanti anni hai. Non so se vicino a te c'è una figlia, una sorella più giovane rispetto a te. Che ti vuole molto molto bene. Un legame arriva. Quando meno te l'aspetti. Però ti dico una cosa. Non so. Adesso poi metto giù altre carte. Non so però se questo nuovo legame sarà un legame che... Venga, così mi spiego bene. Allora. Mi esce. Allora. Mi esce comunque un legame. Che è questo in mezzo, che è la giustizia. Che è un legame. Con un personaggio che non dovrebbe essere... Non abita vicino a te. Può essere di un altro paese. Però non lo conosce ancora. Però vuol dire anche un'altra cosa. Comunque sempre un personaggio che arriva. Ma può essere che tu debba essere l'altra. Quindi io ti dico entrambe le cose. Perché da questo non me lo segna. Cosa potrebbe essere. Però è questione di tempo. Io ho la sensazione che tu sia una storia extra. Però è una storia in cui c'è tanto sentimento. C'è tanta trazione fisica. Ti dovrai un pochino muovere. Magari vi dovete un attimino muovere per vederti. E tu sei del 64. E dovrebbe essere un ragazzo più giovane rispetto a te. Un attimino più giovane. E un pochino diverso da quello che tu ti aspetti. Aspettate ancora un attimo a farmi le domande. Ho ancora due persone. Poi ve lo dico io. Perché queste che mi... Tipo quella di Diana. Di Rosaria. Purtroppo le vado a perdere. Perché non riesco a risalire. Aspettate un attimino. E comunque questo personaggio che arriverà. Sarà leggermente più giovane rispetto a te. E forse un attimino più particolare rispetto a te. Però arriva. Oddio Veronica ti ho ammazionata. No non voglio. Cioè non voglio emozionarvi. Io dico solo quello che le carte mi dicono. Nulla di che spero di fare al meglio. Diciamo il mio lavoro. La mia passione. Perché per me non è un lavoro. Ma è una passione e un amore. E poi se sbaglio. Purtroppo loro dicono il vero. Sono io quella che sbaglia. E quindi portate pazienza. Datemi lo spazio. Il margine d'errore. Allora Tiziana Camilletti mi chiede. Il lavoro. Il lavoro. Ci saranno dei cambiamenti perché lei piacerebbe mettersi in proprio. Tiziana Camilletti che è del 28-9 del 70. Allora io guardo il lavoro in generale. I cambiamenti me li segna. Mi segna se andrai a fare qualcosa in proprio. Così sto più larga. Così in modo tale da darvi più indicazioni possibili. Perché se io vado solo su una domanda vedo quella appunto e basta. Però mi piace darvi più una spiegazione della storia che io vedo. Allora Tiziana Camilletti. Il lavoro come evolverà? E se ci sarà la possibilità di mettersi in proprio. Tiziana chiede il 70. Il lavoro come evolverà? Ecco già. Che scappano le carte oggi. Allora vediamo un po' come evolverà. E ci può essere che tu vada a chiudere un qualcosa per metterti in proprio. Ci sta. Vediamo un po'. A me esce come un personaggio più giovane rispetto a te che ti appesantisce un pochino. Che rompe un pochino le scatole. C'è guarda cosa che mi piace molto. C'è proprio ad un certo punto c'è la luna. Come se col tempo come se tu ad un certo punto la luna con la rinascita togliessi questa nebbia di indecisione, di pensieri, di preoccupazioni e facessi qualcosa per la tua rinascita. Può essere che effettivamente mandi al diavolo tutti e dici basta, ora mi metto perché mi esce il colpo di testa. Come se tu ad un certo punto facessi un colpo di testa, cioè una decisione un po' così affrettata. Vai a chiudere la situazione che hai ora e fai qualcosa per i fatti tuoi. Perché mi esce proprio l'amore con il cambiamento con alti e bassi. Può essere che magari ti toccherà tirar fuori dei soldi e comunque fai il... Mi sto organizzando per mettermi in proprio. Per questo voglio vedere come si evolverà. Ho già deciso. Perfetto. Secondo me evolverà al meglio. E secondo me, non so se dovrai chiedere dei finanziamenti, se dovrai chiedere aiuto a una donna. che ti darà soldi per un progetto. Secondo me qualcuno ti aiuterà. Può essere una bancaria, può essere tua mamma, tua zia, vince all'otto. No, vince all'otto no. Ci sarà comunque una persona, donna, che comunque ti darà una mano. E cosa assai bella, e ti dico la verità, mi piace molto, che sei supportata dalle persone in questa tua decisione. Nel senso, mi esce un uomo che ti darà comunque forza, decisione, non so se è un tuo compagno, se è un qualcuno che comunque ti supporta. In modo molto se è tuo papà, se è uno zio, una figura maschile che crede molto in te, e ti dice, vai, fregatene, dei problemi si risolvono, vai. E secondo me sarà una gran buona decisione, è una cosa che proprio ti farà stare bene. Ok. Allora. Questa che vado a fare ora è l'ultima. E ho visto che Carlotta è arrivata. Carlotta la bella è arrivata. Allora, faccio questa, poi potete cominciarmi a fare le domande. Dico ancora, premetto che quelle che mi avete scritto prima, io non le vedo. Allora, Carlotta la bella, come procede la sua relazione con questo ragazzo? Lei è più giovane perché è dell'87 e lui è più grande. Vediamo un po'. È tuo marito che ti supporta, si vede, si vede perché crede molto in te. E ti sarà molto vicina in queste cose. Carlotta, guardo te che guarda. Allora, come procede la sua relazione con questo ragazzo? Più grande. Allora. Ma c'è un personaggio in mezzo che si impiccia? Allora. Allora. Mi esce come se tu nel passato avessi chiuso una relazione. Non so se a causa di queste o perché in lui vedevi qualcosa di non chiaro. E ho scoperto delle cose di lui che non andavano bene e che quindi hai mandato al diavolo. Questo ragazzo, secondo me, ogni tanto ti, diciamo, la cosa va avanti, solo che ogni tanto ti senti non capita, come se lui non capisse quello che tu hai bisogno. Però ti dico, il cambiamento c'è, c'è positivo e non vedo cose che possano andare male. Ci sarà un momento che dovrai un po' prendere in mano la situazione e fare chiarezza. Sia in te che in lui. Però ti dico, non vedo chiusura nella relazione. Anzi, se deciderai un domani di chiudere o di ferme, renderti una pausa di riflessione, sarai tu a dover decidere. Però rottura fra di voi non la vedo perché vedo comunque i sentimenti. Ok, allora, vediamo, ora giro pagina, cambio carte, lì, così. Allora, parto da Roberta Moretti, un messaggio dell'universo per me. Allora, Roberta, vediamo, e sei del 73. Un messaggio. Oh, finalmente uso i miei registri che io adoro queste carte. Vediamo, un messaggio per Roberta, un messaggio per Roberta. 3, 4 e 5. Un messaggio per Roberta. Allora, guarda, loro ti danno in mano il libero arbitrio. Prendi tu, è come se dicessero, hai carta bianca. Vai, fai le cose, scrivete piano perché se no faccio macelli. Hai il libero arbitrio, puoi fare quello che vuoi rispettando gli altri. Poi, sei un animo comunque a cui piace la natura, piace stare nella natura e in mezzo agli animali. Questo forse è il compito che tu hai su questa terra. E sfrutta questa cosa appena puoi. Ci sono degli amici che ti sono vicino. Ricordati che prima di nascere la nostra anima sceglie le persone che entreranno nella nostra vita. Non è detto che tutte le persone negative non abbiano anche loro una funzione, come le persone positive. Sei circondata da tanti amici che credono molto in te. E pensa anche ai maestri come a degli amici, a delle persone che comunque sono qui per aiutarti. Però hai il libero arbitrio. Ok, e Roberta, mi state scrivendo in tantissimi e purtroppo passano in fretta. E non vorrei dover saltare qualcuno, se già succede chiedo venia. Allora, Lucia Rossi, Lucia, Luciana, Luciano, vale a te. Vorrei sapere lo sviluppo del mio lavoro, il progetto che ho in mente si svilupperà per il meglio. Oh tesoro mio, quante domande? Vediamo come evolve il tuo lavoro. Perché sono tante domande. Io guardo come evolve il tuo lavoro. Luciana, non mi ha scritto l'età ma non mi interessa, come evolve il tuo lavoro. Per Luciana come evolve il suo lavoro. Se salto qualcuno chiedo già perdono perché si spostano velocemente i messaggi e io vado a cercarli, però può essere che magari una svista ci possa essere. Luciana, come evolve il suo lavoro. Al meglio, c'è un cambiamento, è un cambiamento positivo. Soldi in arrivo, sulla progettualità, sui progetti, sui sogni. Non so se è un uomo saggio che ti dà una mano, oppure se è un uomo che salterà fuori col tempo e ti darà il movimento per evolvere al meglio la situazione. Ti dico, carte molto belle. Quindi ci può essere un altro centro, come può essere un'evoluzione comunque positiva del tuo progetto e di quello che hai in mente. Quindi cose molto belle. Vado avanti. Allora, Loredana Bottiglieri, quindi Loredana, Loredana e sei del settantadue. Non so se hai risposto perché la connessione è andata via. No, non mi sembra se non ti avevi prenotato, io non ti ho letta. Allora, Loredana è andata via, quindi non mi stai chiedendo niente. Non riesco a risalire ai primi. Ah, l'amore, scusami, l'amore per Loredana in amore. Non avevo visto il pezzo prima. L'amore, cosa succederà a Loredana in amore? Loredana in amore, cosa le succederà? L'amore, come evolverà per lei? Cose belle, molte cose belle. Al momento mi escono un po' di alti e bassi, però è una ruota che gira. C'è amore e c'è un buon cambiamento. Un cambiamento che tu al momento non vedi, però è un omino che arriverà, più giovane rispetto a te, magari anche di tre giorni, però con cui inizierai una relazione fatta bene. Sono carte molto, 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 molto belle. Ok, spero di averti rassicurato e fatta contenta. Ricordo che comunque io sono sempre disponibile per i consulti privati. Mi contattate su Messenger, io vi rispondo e ci mettiamo d'accordo. Poi, Loredana Palumbo Gerardo. Gentilmente potresti vedere se cambio lavoro. Ok, allora, Gerardo è 6 del... non ti vedo, 79. Vediamo se c'è un cambiamento di lavoro per Gerardo. Vediamo un po' cosa gli succederà sul lavoro. Allora, vediamo un po' per Gerardo il lavoro. Abbiamo ancora tanto tempo, quindi riesco a fare tanti di voi. Allora, Gerardo... Ma, allora, ti troverai sicuramente a dover prendere una decisione. Secondo me il lavoro lo cambi, cambi in meglio, cambi anche in meglio in questo. E, secondo me, andrai a lavorare con una donna più o meno, un pochino più grande rispetto a te. E o se, esempio, la tua compagna... perché mi escono alti e bassi con questa donna. O due cose. O la tua compagna, tua moglie, non è tanto d'accordo per questo cambiamento. Oppure che questa donna sul lavoro è un po' oggi fa la bella faccia, domani un po' meno. Un po' mettila così. Però, secondo me, il cambio lavorativo c'è. Allora, poi... Anna Grimaldi. Mi chiedi... Allora, cominciamo a scrivere Anna. Se no, poi mi perdo i nomi. Anna, vedi l'arrivo di un compagno. E sei del 73. Allora, io guardo cosa ti succederà in amore. Così mi esce tutto. Allora, per Anna. Cosa le succederà in amore? Ho la mia gatta che alla fine non è andata via e è rimasta dietro alla porta, che ogni tanto cerca di entrare e non ce la fa. Si vede che oggi anche lei ha voglia di stare in mezzo a noi. Anna... Poi si chiama Radia, come la prima strega, quindi... Diciamo, anche lei viaggia in questo mondo. Anna... L'amore per Anna. Anna è del 73. Allora. Ma ora mi esce un attimino di fermo. Come se fossi un pochino te a volere questo fermo. Come un momento di riflessione. Che ti sei presa, diciamo, un momento per te stessa. Anche perché secondo me tu sei arrabbiata, non so se con te stessa o con una persona del passato. Però c'è un buon inizio con una persona che al momento non la vedi e... O non la conosci ancora. Però sarà... Non mi segna... Ti dico, sto cercando di capire se è più giovane o più vecchio. Non me lo segna. È però un uomo un po' particolare anche tu. Un matto. Non matto però particolare. E sarà una bella storia. Una storia d'amore. È un personaggio che secondo me non abita nel tuo paese. Andrà vicino alle tue aspettative. Alla tua progettualità. Sarà molto una persona molto simile a te che ti capirà molto. Però ora aspetta. Ci vuole un attimino di tempo. Non è nell'immediato. Però ti dico, è una situazione molto molto bella. Poi, chi c'è? Dopo Anna. Maria Romana Morini. Maria Romana. Maria Romana, mi insegno il nome subito, è del 95. Cosa viene in amore per me? Del 95. Vediamo un po'. In amore per Maria Romana. Cosa le succederà in amore? In amore cosa le succederà? Per Maria Romana. Cosa le succederà in amore? Io devo chiedere perdono a una signora che non mi ricordo il nome, che mi ha chiesto sul figlio. Il figlio era minorenne. Io consulti sia i minorenni che su ragazzi minorenni non li faccio. Perché sono talmente volubili le loro teste che oggi è bianco, domani è nero. Quindi preferisco non farle. Allora, Maria Romana. Perché ho visto che Maria Romana è molto giovane. Per quello che mi sono ricollegata a questa cosa. L'amore per lei. Allora. Il mondo è carro. Qualcosa in movimento molto molto buono. Ora mi esce un fermo. Un fermo momento comunque così, però anche per te c'è l'arrivo di un personaggio un po' particolare che ti porta a un buon cambiamento. Dovrebbe anche lui non essere vicino a te. Con l'amore. Non so se mi esce la carta del sacrificio vicino a un uomo più grande. Come se, esempio, tuo papà non volesse che uscissi con lui. Come se questo uomo ti mettesse un po' i bastoni fra le ruote. Mettila così. Però ti dico, è una buona storia. Molto molto buona. E secondo me è una storia d'amore. Non è una storia solo di attrazione fisica. Ma è una storia d'amore. Allora. Maria Romana l'abbiamo sistemata. Poi Angela va a cargiù. C'è un messaggio per me sul mio percorso spirituale. Allora, io guardo così i maestri hanno da dirti. Perché loro sanno già tutto di te. Allora, Angela. E sei del 71. Vediamo. Un messaggio per Angela sulla sua crescita spirituale. Due, tre, quattro. Allora, io non so tu quale facoltà hai. Però mi esce la chiarudienza. Allora, come se loro comunque ti parlano e c'è chi vede, c'è chi sente. Tu hai la capacità di sentirli come me. Perché io non li vedo. Però quando mi devono dire qualcosa, ho queste voci. Tipo l'altro giorno mi stavo facendo la doccia e continuavano a parlarmi. E io, aspettate, fatemi finire di fare quello che sto facendo. E poi vi ascolto. E loro continuavano. A un certo punto ho dovuto fermarmi e ascoltarli. Quindi mi dice, sì, l'evoluzione poi sta continuando al meglio. Quindi, sì, la tua crescita spirituale. Devi un attimino osare tu. Perché mi esce la legge della sfida. Se c'è qualcosa di cui hai paura, qualcosa che non ti saresti mai fatto, non avresti mai fatto. Ora, prendi in mano la situazione e falla. Buttati a capofitto, tanto loro si sono vicini. E secondo me hanno anche qualcosa da dirti. Se tu hai un tuo modo di meditare, hai un tuo modo per chiacchierare con loro, ascoltali. Perché secondo me hanno qualcosa da dirti. Quello che stai facendo sta evolvendo al meglio. Tira un pochino, forse un pochino di più fuori la grinta. Angela. Allora, poi c'è Giuseppina. Buongiorno, Paola Bottiglieri. Se diventerò madre, tesoro, io le gravidanze non le guardo perché fanno parte della salute. Non sono un medico, sono una povera crista. E ti dico, mi spiace, ma non le guardo. Né salute, ribadisco, né i minorenni, né la gravidanza. Quello non fa per me. Poi, Giuseppina Mura, un messaggio per te. Ok, allora, Giuseppina, se non sbaglio, sei del 62, se ho letto bene. E un messaggio. Vediamo i maestri cosa mi dicono per Giuseppina. Cosa dovete dire a Giuseppina? Chiede il 62. Ok, a Giuseppina cosa dovete dire? Ok, vediamo un po'. Oh, anche tu. Allora, tesoro, comincia a pensarti immersa nell'abbondanza. Guarda, pensati con tanti soldi, con tanto amore, tanta salute, tanto di tanto. Perché se tu ci pensi, le cose arrivano. Però deve partire tutto da te. Anche tu hai la chiaro senzienza. Nel senso che anche tu hai le capacità di sentirli. Quindi mettiti lì in meditazione, pian pianino, con tranquillità, una candelina, l'incenso, quello che vuoi. Perché loro hanno da parlarti. Ti devono dire comunque qualcosa. Tu, anche tu, come la ragazza di prima, sei una donna che vive, che la natura, gli animali, la ricaricano molto. Sei una donna comunque che deve stare nella natura, una casa in campagna, una passeggiata nel bosco. Perché è lì la tua anima. La tua anima vuole stare in mezzo alla natura. Quindi, è vero ora, non è il momento. Mai un giardino, sdraiati sull'erba. Mettiti lì proprio a contatto con la nostra terra. In modo tale che ti ricarichi e stai anche bene. Perché quello è il tuo habitat. Ok. Vediamo un po' chi c'è. Filippa, mi hai già saltata. Ti ho già saltata. E ti chiedo, Venia, perché può essere che tu mi abbia scritto prima che io finissi di fare le domande prenotate. Perché ora ti assicuro che non ho saltato nessuno, perché sto andando veramente col ditino a superare. Scrivimi la domanda, tanto c'è ancora più di 55 minuti, quindi riesco a arrivare a te. Sei mai scritto prima quando facevo le domande prenotate? Sì, è vero, ti ho saltata. Perché prima non guardo i messaggi, li guardo quando ho finito quelle prenotate. Se volete la sicurezza che io vi faccia le stese, prenotate alle ragazze. Ogni volta c'è una ragazza diversa che comunque metteranno il messaggio sul gruppo, vi prenotate con loro e al 100% io vi guardo. Così dove se voi scrivete prima che io ho finito le risposte prenotate, non riesco ad arrivare alle prime. E quello mi dispiace. Quindi, Filippa, riscrivimi la domanda, spero di arrivare a te. Maria Laura, usai un messaggio per me e ti chiami Maria Laura. Maria Laura. Ok, vediamo. Un messaggio per Maria Laura. Un messaggio per Maria Laura. Tre, quattro, cinque. Un messaggio per Maria Laura. Ok. Oh, carte molto belle. A parte che queste non ne hanno mai negative. Allora, tu sei protetta dall'altro. La caccia. Se non stai bene, sei un momento di debolezza, sappi che i maestri stanno già lavorando per te su questa guarigione. Cioè, sei protetta in toto. La caccia, guarda, è una delle carte che quando esce a me dico, buona, oggi posso anche buttarmi giù dalla finestra che non mi succede niente. Però, guarda, stai tranquilla che sei guardata dall'alto. Ragiona di più col cuore e meno con la testa, perché il cuore sa molto di più rispetto alla testa. La testa è un po' una brutta macchina che a volte ci dà anche dei consigli sbagliati. Ascolta il cuore che quello non sbaglia mai e comincia un po' a pensare a te stessa, a far rifiorire te stessa o mettiti lì anche a coltivare delle rose, a coltivare dei fiori, ma fai rifiorire te stessa. Prima ci sei tu e poi ci sono gli altri. Ecco questo, quello che ti vogliono dire. Poi, Maria Laura. Rita Fogliani, che già ci conosciamo. Rita, un messaggio per te. Rita, che è del 69. Rita Fogliani. Ok. Rita, vediamo. Un messaggio per Rita. Quattro, un messaggio per Rita. Scusatemi, ma mi era arrivata una telefonata e mi ha fregata. Rita Fogliani, un messaggio per Rita. Quattro, cinque. Un messaggio per Rita. Vediamo un po'. Un messaggio per Rita. Anche lei. Allora, anche tu Rita hai la capacità di sentire. Sono partita dal mezzo. Partiamo da qua. Allora, come ho detto prima, agisci col cuore, usa il cuore, metti il cuore davanti alla testa. Ora la testa mettila da parte, perché in questo momento ti sta condizionando tanto. Ci sono i maestri che hanno bisogno di parlarti. Quindi, anche tu hai la capacità di sentire. Fermati in un momento di rilassatezza, in un momento tranquillo e ascolta. Ragiona sempre per amore. È vero che dal mondo esterno, purtroppo, arriva a volte tanta cattiveria, ma tu continua a viaggiare sulla legge dell'amore, a fare le cose per amore, sia per te che agli altri, e verrai ricompensata. Lì. Se dai amore, ricevi amore. In questo senso. Allora, vediamo. Rosa luminosa. Che bel nome. Un messaggio per me sul lavoro. Ma, vediamo. Rosa. Un messaggio per me sul lavoro. Allora, vediamo se i maestri mi danno un messaggio sul lavoro. Però, vediamo se mi danno un messaggio sul lavoro. Perché non so se intendevi che volevi sapere sul lavoro, o se lo volevi sapere attraverso i maestri. Guardo questa cosa. Tanto qualcosa mi dicono. Due, tre, per rosa. Sul lavoro. Un messaggio sul lavoro. Uno, due, tre. Un messaggio sul lavoro. Allora, cosa bella. Infatti, se tu pensi, allora, tu hai la capacità di attrarre ciò che vuoi. Quindi, usala. Nel modo giusto, che tu, qualunque cosa, nel senso, se pensi positivo, attiri persone positive. Se pensi ai soldi, a tanti soldi, attiri tanti soldi. Se pensi a persone negative, attiri persone negative. Come pensieri negativi. quindi, cerca sempre di pensare al bene, anche sul lavoro, e attiri cose positive. scopri qual è il tuo percorso in questa vita. Perché comunque hai un dono. E secondo me, il dono è questo. La tua risposta che cerchi, ce l'hai nel registro akashici. Vuol dire che, o te li devi studiare, o studiare, imparare, e come può essere, che la risposta che stai, cercando, è appunto, nel registro akashici. Non so, se, farti fare una lettura da qualcuno, sui registri, se, se impararli tu. Io ti direi, prenditi il libro, non costa tanto. E poi, Lianca Trozzi, è una persona che ha scritto questo libro, e l'ha scritto molto bene. Guarda, se li imparate io, nel giro di mezza giornata, siete capaci tutti. E vi dico, Lianca Trozzi, ha fatto questo libro, e queste carte molto belle. E sono molto chiare. Diciamo, sul lavoro hai un dono, usalo. E comincia a pensare positivo, per attirare anche sul lavoro, cose buone. Ok. Andiamo avanti. Ho perso la mia penna, eccola qua. Allora, Rosa è qua. Andiamo avanti. Maria Laura Usai. Un messaggio. Maria Laura. Ma forse ti ho fatto anche prima, può essere? Perché io una Maria Laura ce l'ho già. Non mi ricordo il cognome. Ne non ho scrivi qui, 67. Vabbè, proviamo a vedere. Allora, perché ti dico prima, non mi ricordo il cognome, ma una Maria Laura ce l'avevo già. vabbè, vediamo. Tanto, Maria Laura, un messaggio. 3, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 17, chiaroveggenza come la seconda della chiaroveggenza quindi anche tu non sei una persona normale cerca di imparare questa capacità o comunque metterti lì e pian pianino cercare di cominciare a vedere la chiaroveggenza è il vedere con le carte con le rune con i registi come vuoi però hai questa capacità poi c'è la legge della polarità nel senso che tante volte le persone hanno due facce noi abbiamo due facce è un po quello che mi va a dire nella prima carta cerca di usare la faccia i diversi atteggiamenti a seconda delle persone che ti trovi davanti quindi stai attenta anche quando ti poni alle altre perché se ci vai con una faccia triste purtroppo ottiene anche cose tristi si avvicinate persone tristi cerca sempre di quando esci di casa di essere positiva e questo modo attiri solo persone a te positive ma anche che ti possono comunque servire in modo positivo però impara un'arte allora maria laurosai lucia gori veri miglioramenti nella mia vita molti aspetti non vanno ecco quando vi fate queste domande io non so cosa guardare io guardo cosa cambia perché ribadisco una aspetta lucia e 6 del 62 perché le carte una carta vuol dire esempio la giustizia vuol dire il lavoro come vuol dire un legame come vuol dire anche un avvocato quindi se voi mi date l'argomento io riesco a essere più chiara io guardo cosa se ci sarà un miglioramento poi siamo aperti alle interpretazioni vediamo un po per lucia nella sua vita vediamo se ci saranno dei cambiamenti nella vita di lucia se ci sarà cambiamento ma secondo me c'è un cambiamento il meglio anche c'è un miglioramento adesso c'è una situazione sacrificio una situazione comunque di fermo non bella però c'è comunque come un nuovo inizio con delle delle decisioni da prendere però che evolve al meglio questo secondo me anche grazie a due personaggi uno più o meno vicino alla tua età e uno più giovane esempio un marito e un figlio un fratello più grande e un fratello più piccolo faccio l'esempio un padre e un fratello e un marito comunque c'è del buon cambiamento che sia in amore che sia in qualsiasi cosa le cose volgono al meglio ok e lucia penso d'averla fatta contenta allora maria romana aspetta ok infatti no infatti dicevo maria romana me la ricordo allora pinuccia b posso sapere come andrà la sessione di esami di mia figlia io spero che la tua figliola non sia minorenne però se fa gli esami a meno che non sia terza media però sessioni solito all'università quindi dovrebbe essere abbastanza grande tinuccia metto te non so il nome della tua figliola allora vediamo gli esami di questa ragazza vediamo come andranno gli esami per la figlia di tinuccia come andrà gli esami per la figlia di tinuccia vediamo un po vediamo un po come andranno gli esami penso che il professore sia un uomo vediamo un po allora diciamo che come se ora le cose fossero un attimino ferme fosse comunque una situazione non semplice c'è comunque il bagato comunque l'inizio di qualcosa come se da un momento all'altro le cose si sbloccassero e vadano le cose si sbloccassero e vanno al meglio io starei attenta a un personaggio maschile un professore secondo me perché un pochino cercherà di mettergli i bastoni fra le ruote però secondo me lei è ben preparata o non so se c'è un membro esterno o qualcosa del genere è ben preparata dille di studiare meglio non so che facoltà fa però qualcosa che riguarda l'estero esempio economia dille di studiare meglio l'economia estera esempio qualcosa perché ci sarà una domanda che la prenderà un pochino in preparata però la riuscirà in un qualche modo a sistemarsi e a dare una buona risposta secondo me al momento c'è ancora un po di maretta sul fare non fare però poi se sta attenta a questo un personaggio che potrebbe essere un professore un membro esterno le cose vanno al meglio allora p tinuccia miriam falcone se troverò l'amore allora miriam ed è del 91 vediamo l'amore vediamo l'amore per miriam vediamo un po per miriam l'amore come evolverà l'amore per miriam l'amore per miriam come evolverà vediamo un po evolve al meglio evolve al meglio allora c'è la tua mamma credo perché mi esce una persona più grande che ti dà tanta 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 forza e ti è molto vicina è come se un po capisse i tuoi sogni come se ti vedesse sempre la sua bambina invece non pensa che comunque tu stai crescendo mi esce un uomo con cui ci sarà un più grande di te comunque ci sarà un cambiamento ma un cambiamento un po graduale nel senso non so se una persona che già c'è se una persona che arriverà però diciamo che porta se all'inizio è un pochino a diesel poi le cose partano al meglio e ci sarà un buon legame per te con amore con cose belle proprio è un legame fatto bene anche se all'inizio ci sarà qualcosa che non ti non ti è molto chiaro o ti dà idea che lui non sia molto chiaro però è una relazione basata sull'amore e non solo sulla trazione fisica ok e anche Miria penso che sia contenta andiamo avanti Maria Laura io ti ho già fatto 6 del 67 ti ho già fatto e penso anche due volte quindi se ascolti la diretta indifferita e ti ho fatto guarda 4 persone su 3 persone su lo puoi andare a risentire Lorena buongiorno ti ho vista ora ben arrivata Lorena e comunque si Maria Laura ti ho già fatto riascolti la differita e ti senti allora Ramona Ramona come il dio del sole se è possibile vorrei sapere se c'è qualche messaggio per me ho appena terminato una relazione ci saranno dei cambiamenti nella vita tesoro io faccio una domanda nelle dirette se poi hai più cose da chiedere mi contatti in privato e ci mettiamo d'accordo come fare perché adesso non so se vuoi il messaggio dai maestri se vuoi vedere il campo lavorativo io ti faccio una stesura con i tarocchi se vuoi sui sentimenti però poi magari ci sentiamo in privato e guardiamo tutto perché così sono tante cose e non è giusto nei confronti delle altre persone allora Romana sei del non c'è la data aspetta leggo altro nel 92 allora Ramona nel 92 cosa le succederà in amore cosa le succederà in amore a Ramona c'è un cambiamento un po' lento sì c'è un buon cambiamento è questione di tempo c'è l'arrivo di una persona fatta anche per bene dovrebbe essere anche un ragazzo più grande rispetto a te e un po' pazzerello è un po' particolare non so se è un po' una persona un po' eccentrica un po' forse diverso da come sei te però sono carte molto belle la tua mamma ti vuole molto bene ed è molto attaccata a te o una tua sorella comunque una persona più grande e sì un amore per te c'è più grande rispetto a te però è in arrivo devi solo avere ancora un attimino di pazienza però c'è allora Lorena ci sono novità per me? vediamo Lorena non mi ricordo la tua 69? sì 69 vediamo come evolve la situazione con questo uomo come evolve per Lorena la sua situazione con questo uomo che mi ricordo essere più giovane come evolve la situazione con questo uomo vediamo un po' nei tempi un pochino lunghi ma guarda c'è movimento c'è sicuramente qualcosa che ricomincia qualcosa che può essere che risalti fuori anche se ho ancora un attimino di tempo però mi esce anche un personaggio forse te l'ho anche già detto un personaggio più grande rispetto a te rispetto a questo scusami o anche più grande rispetto a te con cui poter intavolare una situazione sarete a dover prendere una decisione secondo me Nicola risalterà fuori col tempo però forse non sarà più come tu te lo ricordavi però per te c'è anche qualcosa di più qualcun altro che potrebbe saltar fuori quindi vediamo un po' Laura Melluso Laura Melluso penso di averti già fatta perché non mi sei nuova esatto sei verso la fine del torno verso le tre più o meno se vai a no forse anche un po' prima se vai a riguardare la diretta indifferita ti senti io ti dico la verità ogni volta che finisco una una stesa fortunatamente dimentico Gerardo grazie infinito la prima che mia moglie ha un po' paura di questo cambiamento e ogni tanto bisogna anche buttarsi nelle avventure e se no la vita piatta no non ci piace a noi quindi vediamo poi c'è Laura Rezzol buongiorno a te Federica Airoldi volevo sapere se riuscivo a trovare un lavoro nei prossimi mesi vediamo un po' Federica Federica e 6 dell'85 vediamo cosa ti succederà sul lavoro così per Federica cosa le succederà a livello lavorativo cosa le succederà a livello lavorativo a Federica cosa le succederà a livello lavorativo a un buon cambiamento allora ora mi esce come se tu stessi lavorando però c'è e non vicino a casa e c'è un uomo più grande che un po' è pesante è un po' che magari ti dice guarda oggi devi fare solo quella cosa poi invece no guarda fai anche questo un po' che appesantisce però secondo me una persona più grande di te una donna ti farà qualche proposta e tu dal lavoro che è ora te ne vai per qualcosa di meglio mi dà l'idea che sia all'interno di una ditta o comunque nel senso non vai a fare la contadina è comunque un'azienda che tu avrai più esempio dove sei ora magari ti fanno ipotizzo svuotare i cestini qui magari ti fanno scrivere al computer è qualcosa di più gratificante e che hai più più carica che hai comunque più responsabilità però è qualcosa che ti darà più soldi ti piacerà e sarà comunque un lavoro più gratificante magari adesso sarà tempo indeterminato e questo sarà tempo indeterminato però c'è del meglio in arrivo per te quindi porta pazienza ancora un attimino ma c'è il meglio che arriva allora a posto lei l'ho fatta Sandra sono stata saltata e può essere perché se hai mai scritto prima che che cominciassi a fare le domande sì ti ho saltato allora se rivedrai presto tua figlia allora Sandra che sei del 55 allora io guardo con le sibile quindi a breve se ci sarà un incontro fra te e tua figlia vediamo vediamo se ci sarà un incontro fra Sandra e sua figlia ecco già scappano e sua figlia vi sentite spesso per telefono per messaggio se ci sarà presto un incontro fra Sandra e sua figlia e sua figlia vediamo se i suoi malesseri se tace il non star bene però sì guarda secondo me sì ci sarà un incontro ci sarà una conversazione secondo me il tempo che finisce tutta questa questo macello che c'è che c'è nel mondo tu sei tanto inattesa proprio sei proprio sospiri però ti dico c'è tanta conversazione per telefono si porta pazienza ci andrai con una figura maschile non so se è tuo figlio se è tuo marito però sì ci andrai da tuo figlio devi solo portare pazienza e aspettare un attimino che finisca tutto questo però non è non è tanto lontano questo questo momento vai tranquilla che vedrai che le cose si aggiustano al meglio allora vediamo poi dopo Sandra c'è Marie Marinella mi chiamo Marinella e sono nuova sai percepire qualcosa di nuovo guardo il mio percorso di avvicinamento alle capacità io non so percepire cioè a volte mi vengono delle sensazioni ma non le so decifrare manco io allora ti chiami Marinella a volte alla mattina mi dico oggi mi dà l'idea che sia una giornata un po' storta e quello ce li ho ma su di me sugli altri queste capacità se le ho ce le ho ancora nascoste perché comunque tutti noi siamo sempre in evoluzione e quindi può essere che fra un po' mi arrivino o ce li ho e non le vedo allora vediamo se i maestri rispetto alle tue capacità hanno un messaggio da darti allora per Marinella se avete qualcosa di dirmi in merito alle sue capacità ok vediamo cosa mi dicono allora hai bisogno sicuramente di purificarti è un periodo forse che sei un po' sporca quindi fatti una bella purificazione che sia con l'ortica a meno io lavoro molto con le erbe o come sei tu e magari mettiti qualcosa addosso di chiaro di solito io quando le faccio per me sottometto indumenti intimi chiari e mettiti anche solo una molletta un qualcosa di chiaro la legge del riflesso ossia quello che tu sei davanti è quello che tu al mondo fai vedere se fai vedere tristezza attiri tristezza se fai vedere gioia è gioia sicuramente hai un dono questo sì sicuramente hai un dono che può essere questa tua extra sensorialità quindi studiala imparala perché un dono ce l'hai sei comunque messa ti hanno messo su questa terra perché comunque sei un tramite nella comunicazione fra loro e il resto del mondo quindi sì questa capacità ce l'hai cerca di impararla ora però parti dalla purificazione per poi continuare il tuo cammino allora Laura Rezzogli ma mi pare che t'avevo già Laura Rezzogli penso di averti già fatta però no Laura no Maria Laura Laura ok Laura no non ti avevo fatto pensavo di sì ma invece la Maria Laura sei del 62 allora vorrei chiedere che tipo di evoluzione ci potrà essere nella mia vita io non sono una medium chiedo a loro cosa mi dicono è quello che loro ti ti vogliono dire allora per Laura che tipo di evoluzione ci potrà essere cosa voi avete da dirle in merito alla sua evoluzione 4 5 in merito a Laura sulla sua evoluzione vediamo un po' 1 2 3 allora guarda carte molto belle libero arbitrio tu beh non si vede tanto è un libro una pagina bianca tu qualunque cosa vuoi fare hai le capacità di farle quindi mettiti lì decidi e hai la chiaro conoscenza ossia comunque anche tu sei un tramite hai la capacità di vedere le cose vedere sentirle o comunque può essere tramite i tarocchi tramite che ne so i viaggi sciamanici tramite le canalizzazioni comunque una capacità ce l'hai perché poi me lo va a confermare questo tu comunque hai un dono trovalo può essere la chiaro conoscenza quindi prova a interessarti hai vari metodi di divinazione di meditazione quello che vuoi e perché tu hai questo devi solo trovare la tua strada hai come ti dico carta bianca studia cerca di trovare quello che più è vicino a te quello che più rispecchia te stessa e comunque le tue belle capacità ce le hai allora Silvia degli angeli c'è un messaggio per me con un cognome così penso che tu sia più che protetta allora Silvia sedes babbap ti ho persa 74 ok un messaggio per Silvia un messaggio per Silvia uno due un messaggio per Silvia un messaggio per Silvia allora hai la legge della trazione ossia come ho spiegato prima adesso c'è il sole e non mi si vedono non so come inquadrarle e con quello che tu vuoi lo puoi attrarre e attrai a te le persone che sono più affini a te se sei negativa attiri persone negative se sei positiva attiri persone positive se pensi oddio mi succedono tutte cose brutte sappi che arrivano se ti alzi alla mattina dicendo a parte ringraziare che è la prima cosa che noi dobbiamo imparare a fare a ringraziare anche per le piccole cose grazie perché c'è il sole e ricordiamoci che noi siamo delle calamite noi attiriamo a sé a noi quello che noi siamo in quel momento ciò che noi vogliamo se siamo sempre cupi più che persone cupe non tiriamo e cerca tu sei molto indicata ai cristalli cerca studi i cristalli cercati il cristallo che più ti piace mettitelo in tasca purificalo mettitelo in tasca perché tu hai diciamo la capacità di lavorare con loro poi come ho detto prima la legge del riflesso quello che noi siamo attiriamo quindi belli solari positivi in modo tale che nella nostra vita entri solo positività e cose belle questo mi vogliono dire per te mi piace la cosa dei cristalli indaga su questa cosa e comincia non so se già ne fai uso comincia a guardare a guardare quelli Rita Fogliani Rita tesoro ti ho già fatta e ti ho fatta ti ho segnato in questa qui sei del 69 sì ti ho già fatta quindi mi spiace una una domanda a volta Giuseppina amore Giuseppina anche lei non mi sei nuova sei del 62 hai colto nel segno vivo in campagna amo la natura e gli animali bene ti ringrazio per questa testimonianza meno male ogni tanto non sparo stupidaggine ti ringrazio tanto altre persone ok poi c'è Lore Dagani Lorena l'ho già fatta Angela Cordova un messaggio per me allora Angela oggi quante angeli Angela è 6 ed è 71 vediamo un po' se c'è un messaggio per Angela vediamo un messaggio per Angela vediamo un po' cosa mi dicono un messaggio per Angela 3 4 e 5 un messaggio per Angela allora se hai in testa un progetto al momento è bloccato se hai in mente di fare qualcosa al momento o è bloccato o stai ferma perché mi esce il no è un cancello chiuso al momento è meglio stare fermi però poi cosa bella pian pianino le porte si aprono guarda c'è sto cancello che non so come fartelo vedere oh questo cancello che finalmente si apre e quindi capirai quando è il momento e no ora però poi diventa sì poi cosa bella quanto ami il tuo nome indaga sui personaggi storici che hanno avuto il tuo nome perché lì secondo me scoprirai quanto il tuo nome nella storia è stato importante anche il nostro nome ha un'energia amando lui gli andiamo andiamo a caricare noi stessi e il nostro nome di energia di energia bella buona positiva e quindi le cose poi le strade si aprono che neanche ce ne accorgiamo questo se hai in mente qualcosa ora non è il momento però sappi che è solo ora poi arriva ok Angela Roberta Martinoli petampò Roberta anche lei un messaggio e sei non ce l'ha data fa niente questa non mi interessa Roberta un messaggio per Roberta uno due oggi anche i maestri stiamo facendo fare gli straordinari non solo i tarocchi ma loro sono ben sempre felici di aiutarti osa 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 buttati se c'è qualcosa che non ti sei mai sentita di fare ora quando sarà il momento osa e falla perché comunque sei tranquilla che le cose vanno al meglio non essere sempre tutta magari posata perfettina no osa ogni tanto che ne so anche un taglio di capelli che non ti saresti mai fatta però osa un pochino in più allora noi prima di nascere eravamo un'unità nel momento in cui nasciamo purtroppo questa unità esplode e ogni pezzo va in giro il nostro scopo nella vita è riacchiappare tutti i vari pezzi e questi vari pezzi sono situazioni persone e quindi è come se ora tu avessi bisogno di un pochino rimetterti in sesto se ci sono degli ostacoli sono momentanei e comunque questi ostacoli erano insieme nell'unità che c'era all'inizio quindi se sono arrivati era giusto un motivo per arrivare se persone negative sono arrivate era giusto che arrivavano per capire una lezione idem le persone positive e i fatti positivi quindi scopo nella nostra vita è riunire i vari pezzi come ho detto prima il nostro nome è importante ha energia studiamo cerchiamo che cosa voleva dire il nostro nome chi aveva il nostro nome perché diamo energia a noi stessi e lo amiamo perché il nostro nome è comunque una parte di noi è una parte che ci dà energia e siamo noi cominciamo c'è tante persone io per prima da ragazzina non mi piaceva il mio nome non lo capivano era un nome strano e cose è diventando grande che ho dato ho detto caspita quando ho visto chi è che ce l'aveva ho detto caspita il mio nome è importante e da lì ho cominciato ad amarlo in modo in modo viscerale proprio è felice di avere questo nome quindi ci sono buttati buttati nelle avventure buttati in qualcosa di nuovo perché stai tranquilla che va bene poi Laura Cattovelli è possibile ricevere un messaggio sì vediamo Laura vediamo un po' ed è del 68 mi pare di aver letto certo allora vediamo un po' un messaggio per Laura un messaggio per Laura un messaggio per Laura ok un messaggio per Laura allora se c'è qualcosa che tu vuoi basta che lo chiedi il decreto chiedi chiedi all'universo voglio esempio voglio che oggi la giornata vada bene voglio che oggi cose anche cose grandi cose piccole qualunque cosa voi volete chiedetelo loro si aggiustano e vi fanno arrivare quello magari non è oggi non è domani dopo domani però loro ci danno sempre ciò che noi vogliamo e ciò che noi serve le cose superflue anche se le vogliamo magari ce le fanno arrivare ma poi ce le fanno andare tu hai la chiaroveggenza la capacità di vedere non so se con i tarocchi se con le sibille se con i registi però indaga quale è il tuo metodo di chiaroveggenza e poi tanto per te è la famiglia se del 68 avrai una famiglia i figli la tua famiglia è il tuo nucleo è ciò che ti dà forza dagli forza anche tu cioè cose belle pensa la famiglia è tutto la famiglia parte di lì la nostra storia che sia la nostra famiglia d'origine quanto siano i nostri antenati quanto sia la famiglia in cui viviamo ora però sei tanta roba fidati che c'è qualcosa di bello per te e i maestri sono comunque sempre vicino allora Laura devo fare Silvia un messaggio per te allora Silvia il 6 dell'84 allora abbiamo ancora un quarto d'ora Silvia un messaggio per lei Silvia allora Silvia un messaggio per lei un messaggio per Silvia allora un messaggio per Silvia allora se stai vivendo un periodo un po' particolare sappi che è un ciclo come le stagioni come arriva va quindi se stai vivendo un attimino un periodo un po' particolare sappi che poi se ne va poi ne ritornano bene sempre così le stagioni arriva il primavere estate autunno e cose vanno le persone hanno doppia faccia come noi abbiamo la nostra faccia a volte siamo solari a volte un po' meno quindi a seconda di che faccia noi usiamo attiriamo le persone con la nostra stessa faccia quindi pensiamo sempre in positivo e un'altra cosa a volte gli altri hanno anche loro una doppia faccia come possiamo averla noi cerchiamo di capire qual è la faccia che hanno loro e magari tenendo un po' le antennine sollevate e cosa bella tu hai la chiarudienza secondo me dall'alto hanno bisogno di parlarti o se non ci hai mai pensato a questa capacità comincia a sfruttarla non lo so nelle provare a far meditazioni a metterti come dice una mia carissima amica Paola Borgini a mettersi in ascolto fermati ascolta e loro in un qualche modo si mettono in comunicazione con te e ti dicono quello che devi fare quello che vogliono comunicarti però hai questa capacità Lorena Tesoro ti ho già fatta ed è solo una domanda diretta Donatella Nicolò ho appena perso oddio santo non sono in buoni rapporti con mio fratello pensi che possa agire contro di me allora cosa butta mi spiace veramente tanto perché questo virus purtroppo sta sta portando via tante persone e e questa cosa me ne dispiace molto perché si vedo svuotare vedo anche io persone che conosco che se ne vanno e fa fa male allora tuo allora il 65 non so se sei tu o tuo fratello io guardo un po' come sarà la situazione fra te e tuo fratello mettila così se sono positiva se negative te lo dico allora fra Donatella e suo fratello come evolverà la loro situazione fra Donatella e suo fratello come evolve la situazione fra di loro secondo me non so se ha la moglie che un po' vuol mettervi contro allora io starei un pochino attenta lui si sente molto solo ora non so se in un qualche modo tu cerca di stargli vicino di starvi vicino entrambi ti dico non mi piace la non mi piace sua moglie o comunque una donna femminile però preparati che secondo me qualche fregatura te la ci proverà tu stai attenta perché ti dico secondo me la mente è la moglie e lui è il braccio stai attenta perché secondo me qualche fregatura te la tira tu stai con gli occhi aperti mettila così stai con gli occhi aperti allora poi marinella cara incredibile stai usando le mie stesse carte sì è vero no io li adoro guarda ti leggo dopo così do più spazio do più spazio alle domande no è lianca trozzi guarda ti faccio vedere è questo se si vede lianca trozzi la trovi anche su facebook guarda io l'ho preso su amazon è costato mio marito me l'ha regalato scusatemi è costato tipo una ventina di euro occhio croce però è molto valido è molto chiaro allora valentina un messaggio per te allora valentina che sei del 72 allora valentina aspetta menite stagliano così so che sto parlando di lei va un messaggio per valentina un messaggio per valentina un messaggio per valentina allora hai in mano tu la tua vita hai in mano te la chiave per fare ogni cosa ma vedi la chiave anche come porta fortuna non so se c'è una chiavina piccola mettitela in tasca se trovi sui mercati tempo prossimamente una chiave prendila mettitela in tasca perché è un portafortuna e nei momenti difficili prenditela in mano e sappi che tu hai in mano la chiave per aprire le porte che vuoi quindi stai tranquilla la famiglia è il tuo punto di forza famiglia come dicevo prima avi nonni ossia ciò che c'è dietro di noi e ciò che c'è in questo momento la famiglia è il tuo punto di forza hai solo bisogno un attimino di riequilibrarti devo trovare di riequilibrarti una sala alimentazione se riusciamo un po' di movimento e un attimino più centrata anche a livello energetico questo ti stanno dicendo però sappi che hai in mano la chiave per aprire le porte qualunque esse siano Gabriella Cavalieri un messaggio per me riguardo il lavoro allora Gabriella e sei del 56 allora vediamo cosa ti succederà sul lavoro vediamo un po' spostiamo queste allora mancano dieci minuti vediamo un po' oh ma ne riusciamo a fare ancora allora Gabriella cosa le succederà a livello lavorativo a livello lavorativo a livello lavorativo allora è come se ad un certo punto tu allora mi esce la torre vicino al lavoro allora due cose o che tu decidi di cambiare per qualcosa di nuovo o che tu a livello di lavoro lavori in una struttura ed è qualcosa di buono anche se c'è mi esce un po' il tuo sacrificio non so se negli spostamenti o se a volte ti fanno fare qualcosa che a te non va sappi che prima o poi dovrai prendere una decisione ed è come se questa decisione ti portasse qualcosa di bello e di più soddisfacente a me esce come se un domani tu potresti aprire qualcosa da sola a fare qualcosa in proprio non so che lavoro fai quindi non ti so dire ti troverai addosso delle persone perché ti daranno della matta e ci vorrà qualche soldino ma sappi che ti porterà un buon cambiamento valuterai tu un pochino se esempio se restare nell'effare il dipendente o se deciderai di aprire qualcosa di tuo o se ti cambieranno mansione e tu sarai più da sola rispetto a quello che stai facendo ora vediamo allora Sara Fontana un messaggio per te allora Sara vediamo un po' Sara se c'è un messaggio per lei c'è sempre un messaggio per noi quindi Sara un messaggio per lei allora guarda guarda come ho detto prima le cose vanno e vengono è un ciclo come cominciano finiscono e poi ne cominciano altre quindi se ora non stai vivendo un momento un po' così sappi che tanto passa i maestri vogliono comunicare con te hanno bisogno di parlarti e a volte accendi una canzone e senti una frase quella è il messaggio sulla libreria hai dei libri quello che ti ispira apri io per esempio uso tanto il manuale del guerriero di luce quando sento che qualcosa mi devono dire apro e leggo è il mio modo e un messaggio ce l'hanno da darti è comunque tu hai il libero arbitrio qualunque cosa tu vuoi fare hai da loro carta bianca perché comunque sei protetta e diciamo nel bene sanno che tu puoi solo dare bene quindi hai carta bianca fai quello che reputi giusto allora dopo Sara c'è vediamo rosa luminosa era una conferma sono le perfetto a posto guarda e allora ci siamo già capiti allora Samuela Farina un messaggio per me Samuela Samuela e sei del 75 ok un messaggio per Samuela un messaggio per Samuela un messaggio per Samuela vediamo un po' cosa mi dicono guarda anche tu sei una persona che deve vivere nella natura gli animali la natura sono proprio il tuo pane quotidiano sono proprio ciò che ti fa stare bene ciò che ti dà tanto quindi cerca il più possibile di stare nella natura la legge del karma tutto torna come tu semini raccogli purtroppo il karma nelle nostre vite passate ci possono causare dei blocchi anche in questa vita bisognerebbe capire dove sono per andarli a sbloccare e una cosa usa meno la testa e usa di più il cuore perché adesso non so ok perché il cuore ne sa più di più rispetto alla testa perché il cuore lavora in modo incondizionato la testa purtroppo è una gran brutta macchina e tante volte ci fa vedere anche cose che magari non sono giuste però usa sempre il cuore Giuseppina Mura chi mi scrive chi mi scrive nome e cognome del libro io te lo scrivo guarda questo guarda Lianca Regista Cacici Lianca Trozzi guarda se cerchi anche solo Lianca su facebook la trovi e anche Leggi della Magia è suo il sito e lì trovi trovi tutto poi allora Livia Rosetti Livia un messaggio allora sono che ore sono allora mancano 5 minuti quindi riusciamo ancora a fare qualcuno e poi alla fine vi do il mio messaggio però dei maestri per oggi ve lo voglio dare con un mazzo di carte diverso fatemele trovare perché oggi lì che non ve le ho mai fatte vedere e oggi uso quelli allora Livia Rosetti un messaggio per lei 2 3 4 e 5 un messaggio per Livia 1 2 e 3 un messaggio anche tu la natura la natura è sempre vuol proprio stare proprio vicino a noi proprio ha bisogno di noi forse la stiamo anche un po' troppo trascurando anche tu in mezzo alla natura a mezzo al campo hai un giardino sdraiati al sole proprio caricati di questa energia che viene dalla terra ed è sempre energia pura tu sei tesoro mio un canale di luce cerca i maestri tramite te vogliono comunicare al mondo non so in che modo e cerca comunque in qualche modo di seguire un non so un qualcosa di spirituale ma se mi hai chiesto questo secondo me spirituale lo sai già e la legge del 3 qualunque cosa tu fai ti viene rimandata triplicata fai del male ti torna indietro anche 3 4 5 6 volte fai del bene ti torna indietro bene però tesoro anche tu sei un mezzo nelle loro mani e quindi trova anche tu la tua strada ma secondo me tu la tua strada la sai già qual è allora tiziana chiara un messaggio tiziana tiziana ho visto che c'è anche oddio in questo momento mi sfugge il nome mi ricordo il tuo nome la cestari che a me piace tanto seguirla e infatti spesso quando riesco matilde mi pare che si chiami non voglio sparare stupidaggini quindi perdonami sai che sto parlando di te appena posso riesco ti seguo molto allora tiziana un messaggio per te per tiziana un messaggio per tiziana per tiziana un messaggio per tiziana allora anche tu come me litighi un po' con noi prima di nascere abbiamo giocato con un giullare un giullare cosmico che ti dico la frase che me la dimentico sempre perché anche io ogni tanto ci faccio delle gran litigate con lui perché è quello che ti dice adesso ti dico sempre dice funziona se ci credi mentre noi che siamo razionali dice ci credo se funziona quindi se tu credi in qualcosa falla perché comunque va bene se poi ci sono degli imprevisti pazienza sono imprevisti momentanei vivi con serenità riappacificaci ti con te stesse cerca di stare il più possibile serena ma cosa buona tu hai la chiaro conoscenza tu puoi sapere le cose sfrutta impara questa cosa e vedrai che tutto va molto bene ok allora io tengo controllo la diretta ho un minuto quindi purtroppo devo chiudere perché è giusto perché ci sono altre persone altri relatori però con queste carte che sono le carte dell'anima oggi vi voglio dare il mio messaggio allora ci rivediamo lunedì 20 aprile dalle 14 alle 15 e 30 quindi non domenica perché c'è questo meraviglioso convegno ma lunedì e non so chi prenderà le prenotazioni scrivete a loro che poi mi fanno arrivare le domande allora il mio messaggio di oggi che ci danno è allora questo no tagliamo questo allora quando il buio ti sorprende non guardare in basso dove l'oscurità è più fitta rivolgi piuttosto i tuoi occhi al cielo e segui la tua stella ti condurrà alla meta questa e con questo vi saluto un bacio enorme e ci vediamo lunedì ciao a tutti buona serata ciao